Vabbè, sta di fatto che non mi hanno pagato, però sono successe delle cose molto divertenti in questa serie. Volevo proprio arrivare a quello io. Io voglio raccontare... Possiamo? Sì, ma voglio dire solamente il cognome, non il nome. Deathmaster0333, benvenuto fra i obesi. Muoio. Il cognome di questa persona era Muoio. E aspetta, qua posso incalzarti perché comunque è roba mia. Sì, ma devi ricordarti perfettamente. Sì, sì, certo. Allora, eravamo fatto post-rende-comics, comical, quello che cazzo è. Una serata abbiamo alzato un po' il gomitino, abbiamo bevuto un po'. Abbiamo incontrato quei cazzo di affissioni, i cosi dei morti, gli annunci mortuari. E c'era questo qua che di cognome faceva Muoio. E mi ha fatto ridere. No? Fa ridere. Uno che fa di cognome Muoio ed è su un annuncio mortuario e muore. Far ridere. Far ridere sì, perché è molto ironico. È molto ironico. Però non dovrebbe questa cosa istigare lo spunto. Ah, sì. No. No. Non dovete, se la situazione è ironica, sputare. Perché quello che fece Daniele quando... No, no, sei stato tu. No, tu hai sputato. Io ho dato calcio. Ah, no, sì, è vero. Io ho dato calcio e tu hai sputato. È vero. Vabbè, abbiamo fatto una storia dove sputavamo, sputava e davo calci alla notizia che questo Muoio fosse morto. Eravamo ubriachi. Eravamo ubriachi. Infatti ci siamo scusati. Cosa è successo? Che l'indomani si presenta in fiera il fratello di Muoio. Che mi dice togli quella storia. Che in realtà l'avevo messa io e avevo tipo duemila follower neanche, tremila, una cosa del genere. Quindi è stato proprio un giro incredibile. No, l'ho messa io. No, non l'ho messa io. L'ho messa io. Mi hai chiamato e mi hai detto toglila. L'ho fatta anche io. Infatti l'ho tolta subito davanti a lui e poi... L'hai fatta anche tu? Sì. Io l'ho tolta subito. Io l'ho chiamato. La situazione era comica. Comicalt. E che succede? Che ti hanno anche dato un passaggio. Ah sì, allora. È andata così. Siccome non c'era un mezzo di trasporto per andare a questa fiera... Comunque siamo... Vada a pisciare. Che succede bro? Vada a pisciare perché non... Con la soli incatenati. Non possiamo parlarne, dici? No, non possiamo, però non è la nostra idea. Sì, 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 vabbè. Dopo che ho ricevuto... Allora, intanto è successo questo. Io ero... Mi hanno... Non c'era un passaggio per andare direttamente in fiera. E mentre ero tipo in un bar a casa a fare colazione o quello che è... Anche per chi non è che ero invitato e cose. Quindi faccio abbastanza i ragazzi miei. E ad un certo punto mi hanno scritto su Instagram dei ragazzi che hanno detto Ti veniamo a prendere noi? E ho detto ok. Nell'esatto momento in cui vengono a prendere... Diciamo che mi ero modificato un pochino. Attraverso qualche sostanza modificante. Che non è illegale. Vabbè. E ad un certo punto, nell'esatto momento in cui ero un po' così, mi chiama Marco e mi dice Togli assolutamente quella storia. E io... Gli ho detto no. Lui mi ha detto ci sono... C'è il fratello qua davanti. E ha detto che se non lo facciamo, chiamiamo i vigili. E io ho detto ok, lo faccio. Arrivo là in fiera con la paura addosso di incontrare il fratello e di essere fermato dalla polizia, dalle guardie. Ha detto che chiamavano i vigili. Cioè tu mi hai detto anche che c'era la cazzo di guardia che ti aveva detto qualcosa. Non mi ricordo. Sei pazzo? La guardia non me la ricordo. Lui ti ha minacciato e ti ha detto... Sì, che se non avessi ricorsi al legale, se non avessi subito tolto la storia. Comunque, arrivo là, non lo trovo, quel giorno la di fiera, ma il giorno dopo, sempre incamminandomi per andare in fiera, perché sono andato a piedi, incontro questa persona con una piccola ragazza da compagnia muta, che mi fermano. Che tra Valenzi. Questo non ho raccontato, ma quando lui mi ha chiesto di togliere la storia, in realtà quando mi ha detto questa cosa qua è stata veramente di cattivissimo gusto, Ragazzi, io, questo è un consiglio che veramente voglio dare a tutti, quando vi trovate in una situazione brutta e spiacevole che voi avete causato, vi consiglio veramente di non girare con nessuna cazzo di parola e di dire le cose per come stanno e per come voi le avete intese. Perché, fatto sta che quello che io risposi a il caro Muoio quando mi disse che, vabbè, di togliere la storia, fu guarda, noi non vogliamo essere cattivi, scusa se in quella storia eravamo un po' ubriachelli, ma abbiamo fatto quella storia principalmente perché è un po' ironico il fatto che sia morta una persona che di cognome vada a Muoio. E questo era il motivo per cui facevo la linea. Era il motivo. Lui mi guardava così mentre io lo dicevo? Sì, anche a me. Io sono stato zitto. E la tappetta con i capelli colorati faceva... Ecco, quello, quello mi... Quello mi urtava parecchio. Comunque l'ho incontrato mentre stavo tornando. Sdrumox, io le dico, wey la, perché io sono sempre molto contento, che ci parliamo, facciamo due chiacchiere. Sono il fratello di Muoio. E un po' la mia escesa tutta la passione e la felicità. E ho detto, guarda, cosa ha là, bla bla bla, ho visto anche che hai pubblicato delle storie che si chiamano Scarpe, che si chiamano, non mi ricordo come cazzo si chiamava. Scarpe. E io ho detto, guarda, era solo per il cognome, non te ne preoccupare. Lui fa, sì, 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 va bene, tutto a posto. Vuoi uno strappo per andare in fiera? Lui ho detto, non lo so. Dovrei? Fa sì, vai tranquillo, ti do la tappetta zitta, non ha detto una parola. E mi ha accompagnato pure in fiera. Grazie. Muoio, grazie, muoio. Grazie da morire. Cattivissimo gusto. Eh? Cattivissimo gusto. No. Dai, fammi giocare che sto morendo dalla noia. Hai capito? Eh? Hai capito? Sì, sì, sì. Ok. C'è sempre. Ehm...